Sì, l'autore dell'alto è molto conquistare un affitto di una torretta del genere. Ma lo sai che c'è qua non si fa dal metro quadro? Questo è... Si vede San Pietro qui, sì. È benissimo, è oggi su due piani. Sì, c'è il piano terreno, c'è la sorta di ingresso soggiorno, poi c'è il piano della cucina e il piano dell'assenza dell'alto urbano. Quindi tre livelli sono... Sì, però ho capito, c'è il piano di terra con primo piano, invece l'anticino e secondo piano l'assenza dell'alto. È un posto romantico, diciamo. È un posto da giovane, da giovane bohemiano perché c'è il suggestivo. Grazie a tutti.